La poesia è un brano di un romanzo che in realtà deve ancora vedere la luce è un brano che può vivere abbastanza di vita propria quindi non mi sto a raccontare una trama vi dico solo che il protagonista di questo pezzo ha appena perso un figlio e rientra dall'ospedale e torna a casa ancora una fine, hai capito? Il buio, non vedi altro proietti la tua vita in un futuro prima prossimo e poi sempre più lontano nel tempo e continui a non vedere nulla ti fermi impaurito temendo che al prossimo passo possa non esserci terra sulla quale appoggiare i piedi ti volti cercando conforto in quello che hai fatto